Domenica Domenica L'ultima protagonista ad aver detto la sua pubblicamente sui due ex fidanzati più chiacchierati di questo periodo, è Teresanna Pugliese, la ragazza, che è conosciuta dal pubblico per aver partecipato tanti anni fa a Uomini e Donne prima come tronista e poi come corteggiatrice proprio di Monte, ha preso parte al dibattito settimanale sul GF VIP che Barbara D'Urso fa a Domenica Live. Punto intervenuta in esclusiva dopo la forte intervista che ha rilasciato a DiPiU, video, la napoletana ha avuto parole negative soprattutto nei confronti di Cecilia, la donna che per molti le ha portato via quello che ai tempi era il suo compagno. Dopo aver precisato che è stata lei a lasciare Francesco che poi lui si mise con la sorella di Belen un mese dopo la loro rottura, Teresanna ha voluto replicare a quello che l'Argentina ha detto di lei quanto stata nella casa del grande fratello VIP. Punto non so come lui abbia fatto a dire ti amo ad una persona del genere e lei è un str. Ah e lui è stato un cog. Ne a sceglierla, queste le frasi uscite dalla bocca della Rodriguez che hanno dato molto fastidio alla pugliese. Punto voglio dire che sono stata io a mollare Monte perché non avevamo gli stessi obiettivi, quindi lei si è presa quello che io ho lasciato. Ha tonato l'ex di Ued nel salotto di Canale 5. Teresanna svela il suo reale pensiero di Cecilia, la ex di Francesco Montella replica di Teresanna alle offese che le ha rivolto la Rodriguez durante il GF VIP. Non è finita qui, nel corso del suo lungo intervento a domenica live, la partenopea ha preso le distanze dalla chiacchierata sorella di Belen dicendo lei per avere anche solo un'unghia della mia dignità da veri nascere e forse non ci riesce. Una stoccata non di poco conto quella che la pugliese ha lanciato all'ormai ex fidanzata di Francesco Monte, video virgola che, esattamente come il fratello Jeremias, ha deciso di non partecipare al programma di Barbara D'Urso. A proposito del rifiuto a prendere parte al seguitissimo programma di Canale 5 da parte dalla 500 alla 1 entrambi i Rodriguez, la presentatrice napoletana ha voluto precisare questa è una trasmissione democratica, chiunque può scegliere liberamente se venire oppure no. Per fortuna, noi facciamo oltre il 23% di Sharon ogni settimana anche senza Cecilia e Jeremias. Tornando alle dichiarazioni che ha fatto Teresanna domenica 26-11, riportiamo anche le belle parole che ha usato per augurare una pronta ripresa al suo ex Francesco, alla conduttrice che le chiedeva se volesse dire qualcosa a Monte. La pugliese ha replicato spero che dopo questa delusione, lui possa riacquistare fiducia in se stesso e possa concentrarsi su obiettivi concreti. Gli auguro anche di incontrare anche la persona giusta perché, dopo la tempesta, esce sempre il sole.calogero latino Luca e il baso unidomenico mungi guerra.